Giro tutte le strade di Roma, non ce n'è una, una, una percorribile, percorribile. Proviamo a rispettare il limite dei 10 km orari. Praticamente impossibile. Ci suonano da dietro. Non riesci a rispettare questo limite? Io, come? Sì che lo rispetto, altro che. Cammino a piedi, non sono Usain Bolt, quindi che faccio? Riesci a rispettare questo limite? Io, come? Sì che lo rispetto, altro che. Cammino a piedi, non sono Usain Bolt, quindi che faccio? Proviamo a rispettare il limite dei 10 km orari. Vediamo che succede. Praticamente impossibile. Ci suonano da dietro. Poi è stato fatto che c'è più a tutela delle casse del comune, piuttosto che del bene di di va in macchina. In genere dovremmo fare l'autovelox su quella strada, ma... Però 10 km orari è infatti. 10 km orari perché la strada è dissestata. Giro tutte le strade di Roma, non ce n'è una, una, una percorribile, percorribile. Con lo scooter poi non ne parliamo. Cadute, con sovracadute, cadute due o tre volte. Io penso che l'interventa è assurda. Questa è un'altra, 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 un'altra. Musica